Stefano, gara tiratissima ma sei sul podio. Sì, è stato un weekend veramente difficile, avevamo qui tutti i migliori piloti sia italiani che stranieri. Una gara molto corta e sapevamo fin da casa che sarebbe stata una guerra a tutti gli effetti. Io ieri ho avuto un problema elettrico in prova 1 che il mio team ha prontamente risolto e oggi in gara veramente abbiamo dato il massimo e nonostante in gara 2 ho peggiorato nel primo settore per un errore che ho fatto nelle curve strette, ho fatto gli stessi tempi tra gara 1 e gara 2 al centesimo. Siamo sul podio nel CVM e mi è sfuggito il secondo posto per 5 centesimi da Achille Lombardi che è stato molto bravo, gli faccio i miei più sinceri complimenti. Però è stata veramente una bella battaglia, quando le gare sono così è entusiasmante e si dà il massimo sempre. Dove ti vedremo nelle prossime gare? Fra 15 giorni abbiamo appuntamento alla Rieti Terminillo, gara di campionato italiano e poi se tutto va bene vorremmo fare altre due o tre tappe di CVM durante la stagione, lavoro permettendo.